Siamo con il capitano Mindoli, una partita, primo tempo, grandi ritmi, il secondo un pochettino siete scesi, però una squadra che sta crescendo in più e i giovani stanno crescendo insieme a voi. Sì, diciamo che è un piccolo difetto del nostro inizio di campionato, facciamo delle grandi partenze, dei grandi primi tempi, poi caliamo nel secondo tempo. Non va bene, se dobbiamo trovare qualche difetto è questo, dobbiamo mantenere la concentrazione e il ritmo alto per tutta la partita, quando poi il livello del campionato arriveranno squadre più forti e dobbiamo migliorare in quello. I giovani comunque sì, stanno crescendo e devono continuare così.